buongiorno a tutti segretario procediamo con l'appello buongiorno a tutti seduta della sesta commissione consigliare del comune di Palermo numero 982 del 12 ottobre 2021 procediamo con l'appello dei consiglieri come chiesto dal presidente Anello assente Canto assente Gerarda assente Scarpinato assente Presidente Zacco è presente ora ho stata la mancanza del nuovo regale la trova in più buongiorno a tutti